Arriva in Puglia il tour di Quasi Amici, che vedrà come protagonisti gli attori Massimo Ghini e Paolo Ruffini per la regia di Alberto Ferrari. Lo spettacolo andrà in scena in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e le prime date sono in programma a Taranto, presso il Teatro Fusco, nelle giornate del 28 e del 29 marzo. I restanti tre appuntamenti saranno invece al Teatro Italia di Francavilla Fontana, al Teatro Verdi di Sansevero e infine a Cieie Messapica presso il Teatro Comunale. Un adattamento per il teatro del soggetto e della sceneggiatura del film affascinante, poiché permette di dilatare in drammaturgia teatrale emozioni che nascono per il cinema con un linguaggio di tipo visivo e filmico e che devono però irrobustirsi con parole e simboli precisi sul palcoscenico al fine di rimandare tutti noi ad un immaginario condiviso col quale far dialogare il proprio.